Bene ragazzi, oggi andremo a vedere dei segreti che ci stanno all'interno di Brokeven E ovviamente sono da solo, quindi sarà ancora più pauroso andare in giro Bene, allora, il primo segreto è Andan Dove mi trovo? Non ci voglio credere, non ci voglio credere! Pomni, di nuovo! Pure su Roblox ci sei? Sì, sono Spraiser! Che cos'è questo posto? Non è lo stesso dell'altra volta? No, infatti, siamo su un altro gioco, Pomni Oh mio Dio, non ci voglio credere, sei davvero spawnata! Come prima, ma sei in giro per le backrooms ad aprire porte a caso? È normale che poi finisci ad andare nei giochi a caso, Pomni Oh cavoli, io voglio soltanto uscire Ok, bene, dato che non puoi, mi darai una mano per questo video Che dobbiamo andare a vedere un paio di segreti che ci stanno in queste case, va bene? Oh, segreti? In che senso? Ah, questo è Brokeven, Pomni, una bellissima città per giocare il roleplay tra amici e tra sconosciuti E possiamo fare un sacco di esperienze insieme, Pomni Allora, iniziamo dal fatto che c'è un segreto qua, ok? Devi indovinare dove si trova questo segreto, ok? Vediamo se ci riesci Qua, nella piscina Ok, sì, e poi brava, fuoco Fuoco, fuoco, fuoco Oh, stai bruciando, stai bruciando, stai bruciando Oh mio Dio, ci vediamo che non me l'hai trovata prima a botto Oddio, Pomni Eh, non lo so, cambiamo il colore Quindi ho pensato magari sì Oh, dove ci troviamo? È praticamente una stanza lunghissima Dai, forse, andiamo Eh, dove ci porta questo posto? No, senti, io voglio tornare indietro Pomni, Pomni, dove cacchio vai? No, 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 no Dobbiamo andare, dai Dobbiamo vedere i segreti di Brocaven No, non possiamo aspettare Perché posti pericolosi? Perché posti pericolosi? Ma state tranquilla Dobbiamo semplicemente Vedi, ora siamo arrivati E invece no C'è un altro posto Un altro posto ancora più brutto e terrificante No, 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 no Fa paura E da qua, sai dove si va? Verso questa parte Si sale E si arriva Alla banca Hai visto? Eh? Dalla piscina vai in banca Cioè, ti rendi conto? Che strano Non ti lascia di stucco questa cosa? Ecco, guarda Beh, sinceramente mi metto un po' ansia Quindi le persone possono rubare i soldi alla banca così? Eh, beh, in realtà in questo gioco si può fare tutto questo e anche di più Tra l'altro, voglio farti vedere un'altra cosa Eh, guarda Ad esempio, Pomni Ecco, prova a salire qua sopra A salire Ok, no, aspetta Ci siamo, ci siamo buggati No, 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 no Oh, dove sei? Oh, cavolo, non riesco a entrare Eh, nulla, Pomni, sei rimasta bloccata lì Ciao No, torna subito qui Non so che devo fare Ah, cavolo Ok, questo era il primo segreto Ma andiamo a vedere l'altro Non solo questo l'ho fatto, Pomni Ma adesso, praticamente, hanno aggiunto Praticamente Un aggiornamento nel firetruck Ovvero, eh, nel, nella cosa, come si chiama? Il, il questo, ok? Ah, il camioncino di vici Esatto, dei pompieri Esatto, guarda Guarda cosa che figata Io prendo adesso l'idrante, ok? E con l'idrante posso fruzzartelo Ah, che cosa stai facendo? Ehi, non è, non è molto gentile da parte tua Dai, Pomni, fatti un bagnetto Che da tanto che non ti lavi Dove sei? Sieni qua Ah, dove sono? No, Pomni, Pomni Stai andando in giro con l'inferno Oddio Oddio, Pomni Ma quanto è lungo? Ah, ecco, ok, infatti Ah, ok Abbiamo scoperto, ragazzi Che dopo una gittata Non, non potete più usarlo, ovviamente Perché diventa troppo lungo Per il tube, si stacca Eh, Pomni Che stai facendo? Aiuto Oh mio Dio, Pomni Sei sempre la solita Roba Scendi giù Scendi, scendi giù Ma riuscivo a uscirtene, ma davvero? No, non sapevo come fare Guarda, hanno sistemato anche l'ambulanza Vedi, adesso puoi metterti qua e puoi sdraiarti Eh, sì Vada, mettiti lì Ti faccio fare un paio di trick Trick? In che senso? Sì, adesso vedrai Ecco fatto, 70 Cosa stai facendo? Sei pronta, Pomni? Ora facciamo Ci divertiamo un po', Pomni Oddio Ok A me hai fatto un giro della morte dentro un'ambulanza Certo che no Che cosa stai cercando di fare? Tranquilla Oh, oddio Oddio Eh, Pomni Non ha funzionato Ah, meglio così Mannaggia Oddio, guarda È messa di spa Guarda, sono sdraiato praticamente Nella Nella parte Io me ne sto andando via Dove vai, Pomni? No, 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 no Pomni, Pomni Cioè, dove c'è? Ciò vai Pomni Oh mio Dio Ah, vabbè Questo era comunque Non era proprio un segreto Un aggiornamento Adesso andiamo a vedere gli altri segreti però Vi farò vedere ragazzi Il nuovo aggiornamento Dello skate park Che hanno aggiunto praticamente Negli attici Questi qua fighi Di Brokeven Allora Skate park? Sì È una cosa bellissima Guarda qua Dentro degli appartamenti Dentro degli appartamenti? Non sto scherzando Non sto scherzando Non sto scherzando No, 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 forse Eh, ok Vedi com'è figo qua? Ok Ma se vai sopra C'è anche lo skate park fuori Vedi che figata Se non c'era prima eh Adesso puoi prendere lo skateboard E puoi fare la skater Dov'è lo skateboard che non lo trovo Eccolo qua Tranquilla Ecco fatto vedi come si fa Dai prova Prova a prendere uno skate Dove lo trovo Lo trovi nel livello Ecco vedi Attenta attenta No non lo so fare Perché devi avere le skill Vabbè questo è comunque un ragionamento figo Che hanno aggiunto così che almeno possiamo fare skate Anche in maniera privata La cosa bella sapete cos'è E' che praticamente si estende in tutti gli edifici Questa cosa qua Cosa che non accadeva invece con le altre case E' davvero figa questa cosa non pensi No Dai pomni Hanno aggiunto un'altra macchina Pommni guarda qua sali E' praticamente una delle macchine Quelle hippie Ci possono stare qua sopra Sei persone E va un sacco veloce Pommni Senti la velocità che sta andando un botto veloce Oh mio dio Sì però io rallenterei se fossi in te Guarda Hanno aggiunto pure le sospensioni Pommni Drift setting Come si sta andando un drift setting Aspetta Se lo diminuisco Wow Sei fuggita Uuuu Dai pomni va tutto bene Questo è il Roblox Divertiti Oh mio dio Pommni Pommni stai vomitando Che schifo Sì Che schifo sì Pommni non si vomita Oh mio dio Oh Gesù santo Ok Ok Va bene Mentre Pommni vomita Andiamo a vedere un altro segreto Ecco Pommni Vedi questa casa Sembra parecchio normale Vero Sì è normale Anzi anche carina Ok Beh in realtà Nascondo un segreto terrificante dentro Eh Sì Vabbè Vai io ti aspetto fuori No 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 Pommni Dobbiamo andare insieme Dobbiamo vedere questo segreto terrificante insieme Pommni Io ti aspetto qua Questa casa Ha una stanza Un corridoio segreto Che va nelle backrooms Pommni Eh Magari potresti ritornare indietro Sì magari da quel punto Potresti ritornare indietro Allora ok Se posso tornare indietro Magari troverò l'uscita Beh forse Allora vediamo Allora vedete Questa è una casa molto bella Effettivamente è davvero carina Ma Dentro questa casa Al di sotto C'è una porta segreta Vediamo se riesci a indovinarla Pommni Mi hai portato di qua Magari qua No Dietro Ah Ti sei riuscita sì Ecco Dove siamo Siamo Nelle backrooms Pommni Nelle backrooms Dov'è la torcia qua No non è la torcia questa Dov'è cacchio Dov'è Torcia 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 Non vi trovo la torcia Ok Vedi queste sono le backrooms Di questa casa Nessuno Sa l'esistenza Di queste backrooms Eh Magari possiamo Andare in un punto Sperduto E non ritrovare più La via d'uscita No Io devo uscire Devo uscire Fami uscire Oddio effettivamente adesso Dov'è che Da dove siamo entrati Pommni Da qua Fami uscire subito Ti sei riuscita Ok Beh Cosa ne pensi Ti sei divertita È bello No Voglio andarmene via Eh Beh Diciamo che Quella Non è servita tantissimo Effettivamente Quella Quella backroom Non so minimamente Come fartene andare via Pommni Magari troveremo Un altro modo Guardando altri segreti Eh Pommni Troviamo Che cosa devo fare Allora Ah so io cosa fare Vieni qua Vai lì sopra questa moto con me Eh Sei guidare? Sì Eh Ah cacchio Non puoi Vabbè Comunque Adesso Ti faccio vedere una cosa Adesso Perché sei così Tanto spericolato? No 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 Adesso Quello che dobbiamo fare È girare fino Allo sfinimento Così che vomiti Così tanto Che ritorni indietro nel tempo Capito? Indietro nel tempo? Sì Come stai dicendo? Sì Come va con il vomito? Dai Pommni Come va? Eh Ha funzionato Oddio Ha funzionato Ok Beh abbiamo salvato Pommni Meno male Ragazzi mi raccomando Per altri video come questo Mi raccomando Andate a cliccare Questi altri video Di Roblox E noi Ci becchiamo in un prossimo E nuovissimo video E fatevi sapere Se magari volete Altri aggiornamenti di Brokeven Io mi diverto Ciao ciao Ciao